Alla vigilia del cruciale vertice di Bruxelles, cauta apertura tedesca sullo scudo anti-spread proposto da Monti per i paesi in regola con la disciplina di bilancio. Il Premier annuncia, tratterò ad oltranza, la Merkel ribadisce il suo no agli Eurobond e si prepara al faccia a faccia di stasera a Parigi con il presidente francese François Hollande. Il Premier spagnolo Rajoy lancia l'allarme, la Spagna non potrà finanziarsi a lungo i tassi attuali visto il livello dello spread tra Bund e Bonus, intanto anche il differenziale con i nostri BTP resta alto. Oggi il Tesoro ha collocato 9 miliardi di botte a 6 mesi ma i tassi sono saliti al 2,9%. In serata arriverà il via libera definitivo alla riforma del lavoro soddisfatto il ministro del Welfare Elsa Fornero che assicura come il governo sia disponibile a cambiamenti ma la cosa importante è far ripartire. Attaccata in Siria una TV vicina al regime, 7 le vittime del comando armato, intanto il rapporto della Commissione d'Indagine delle Nazioni Unite denuncia violazioni dei diritti umani su scala allarmante ad opera del regime di Damasco. Agli europei di calcio il Portogallo punta tutto su Cristiano Ronaldo per agguantare il primo posto della finalissima di fronte ai cugini spagnoli, domani tocca all'Italia di Prandelli che si vedrà con la coriace favorita a Germania ma il CT è comunque ottimista. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque mancano solo poche ore, manca solo un giorno all'importante e cruciale vertice di domani e dopodomani a Bruxelles che di fatto dovrà stabilire la sopravvivenza o meno della moneta unica, un vertice in cui in buona sostanza i singoli paesi dovranno decidere se cedere o meno un pezzettino della propria sovranità in favore di un progetto comune, insomma di una Europa politica che di fatto fino ad oggi non c'è stata e sola forse potrebbe garantire di far fronte alla terribile crisi che investe un po' tutto il continente anche seppur in misura diversa a seconda dei paesi. Allora vediamo qual è la cornice che si sta preparando, quali sono le ultime limature di queste ore, i preparativi e spiccano sempre ancora una volta i no di Angela Merkel, vediamo. Allora il servizio ancora non è pronto, dunque vi stavo dicendo il Premier Monti si prepara ad arrivare a Bruxelles dove incontrerà la cancelliera Angela Merkel per preparare questo importantissimo vertice di domani e dopo domani sulla moneta unica per far fronte alla crisi che ha investito tutto il continente e si parla appunto di trovare una soluzione che non è solamente finanziaria ma che è anche una soluzione una soluzione politica, una soluzione unica in cui i paesi devono trovare una unità di vedute per capire come poter affrontare una crisi che è anche e soprattutto una crisi finanziaria. Il servizio adesso credo che dovrebbe essere pronto altrimenti andiamo avanti con un'altra questione che è la questione delle borse, dei mercati che sono in fibrillazione in queste ore, si stanno preparando al vertice le borse oggi sono per fortuna in positivo, stanno tentando un rimbalzo ma il servizio è pronto, vediamo. Fedele alle proprie convinzioni in direzione ostinata e contraria Angela Merkel ha ripetuto davanti al Parlamento tedesco il suo no agli euro bond già scandito ieri con la frase non ci saranno finché avrò vita ma dato che non si può sempre dire solamente di no ha concesso un piccolo ammorbidimento e lo ha fatto sullo scudo antispread è successo nel corso del mini vertice che si è tenuto ieri sera a Parigi tra i ministri delle finanze di Francia, Italia, Germania e Spagna e il commissario Olli Rennes. Un incontro figlio di quello tenuto a Roma la scorsa settimana è propedeutico a quello di domani e dopodomani a Bruxelles. Il francese Moscovisi ha convocato Grilli, De Guindos e Schäuble in un luogo fuori Parigi con una richiesta precisa oltre al piano per la nuova governance e al controllo delle banche approntato dal quartetto e alle misure sulla crescita bisogna arrivare al vertice europeo con qualcosa che abbassi di spread e calmi i mercati Il timore di un fallimento del summit di Bruxelles con relativo tonfo alla riapertura delle borse lunedì ha fatto sì che per la prima volta la Germania e il commissario europeo Rennes ammorbidissero le posizioni nei confronti di quello scudo antispread proposto al G20 in Messico da Mario Monti e definito proprio da Rennes inutile paracetamolo. Se la proposta prendesse corpo il fondo salva stati europeo diventerebbe un meccanismo di stabilizzazione degli spread a favore dei paesi più virtuosi. L'idea è di fissare un tetto oltre il quale il fondo interviene automaticamente comprando titoli della nazione sotto attacco evitando programmi di austerity come quelli imposti alla Grecia. Il fondo inoltre potrebbe intervenire direttamente nei salvataggi delle banche senza passare per i governi come è accaduto in Spagna evitando così di appesantire i conti pubblici. Questi gli argomenti messi sul tavolo ieri alla riunione di Parigi dove stasera Angela Merkel arriverà per incontrare François Hollande. In queste ore la cancelliera sta illustrando al Bundestag le misure che porterà a Bruxelles dove, ha detto, si deciderà il futuro dell'Unione Europea e delle nuove generazioni. Non ci sono facili soluzioni, ha detto Merkel, che ha ripetuto che bisogna controllare le banche. Vedremo se il nostro Premier saprà far breccia nell'intransigenza della cancelliera di certo è disposta a trattare ad oltranza pur di salvare l'euro e forse il suo governo. Lo farà comunque con il pieno appoggio del presidente francese Hollande che ha fatto sapere di condividere le posizioni italiane. C'è dunque che i mercati sono in fibrillazione, queste sono ore di grande attesa. Per il momento sono in positivo, bene va Milano, tutte le borse europee, mentre i rendimenti dei bot semestrali messi all'asta oggi sono in forte aumento. Chiederò misure per stabilizzare i mercati. Il premio spagnolo Rajoy non ha dubbi. Visto il livello dello spread, il differenziale bonus o bund decennali, la Spagna non potrà continuare a finanziarsi sul lungo periodo ai tassi attuali. E così anche per lui diventa essenziale lo scudo anti-spread proposto dall'Italia. Insomma, alla vigilia del 25esimo Consiglio europeo, il nervosismo delle borse resta alto. Gli operatori sembrano scettici. A Piazza Affari non reagiscono granché neppure al successo dell'asta dei nostri titoli di Stato di questa mattina. Nonostante siano stati piazzati tutti i 9 miliardi di euro di bot semestrali offerti dal Tesoro, con la domanda che ha superato l'offerta di ben 1 miliardo e 400 mila euro, il tasso di rendimento ha superato quello del 29 maggio scorso di quasi un punto percentuale, 2,96 contro il 2,10%. Insomma, finanziare il nostro debito pubblico costa sempre più caro. Non leggiamo ancora una volta dallo spread. Al momento il differenziale BTP Bund decennale viaggia sui 460 punti con rendimento del 6,12%, mentre quello tra bonus e Bund si attesta sui 532 e il rendimento del 6,85%. E se già così non c'è davvero di che essere ottimisti, dando un'occhiata a casa nostra preoccupano le notizie in arrivo dal Monte dei Paschi di Siena. Se da una parte l'annuncio di una ristrutturazione del terzo gruppo bancario italiano, con relativo aumento di capitale, ha fatto impennare temporaneamente le quotazioni del titolo in borsa, ora negative, dall'altra la decisione di chiudere 400 filiali vuol dire mandare a casa oltre 400.600 dipendenti. Una decisione dura, ma necessaria a ridurre i costi operativi, dicono i vertici al termine di un consiglio di amministrazione fiume di 11 ore. L'Istituto di Credito Senese ha poi avviato le procedure per emettere entro l'anno obbligazioni per 3 miliardi e 400 mila euro, un miliardo e mezzo delle quali verranno sottoscritte dal Tesoro e le rimanenti saranno destinate al rimborso dei tre Monti Bond ancora in circolazione. Soddisfatto del nuovo piano industriale, l'amministratore delegato Profumo, che parla di rimborso del finanziamento pubblico entro il 2015. E quello di domani a Bruxelles è un appuntamento a cui Mario Monti vuole arrivare forte, sostenuto dalla maggioranza che fino a questo momento lo appoggia. Il Premier parla della necessità di un tandem governo-parlamento e di un sistema paese che si muove in direzione unificata. Insomma, per Mario Monti il ruolo dell'Italia per evitare il tracollo della moneta unica è fondamentale. Stesso giorno, stessa sfida. Giovedì, Italia-Germania sui campi da calcio, Monti versus Merkel a Bruxelles. E il professor Monti, come il CT Prandelli, fa appello ai suoi giocatori. La classe ABC deve garantirgli un sostegno reale. Monti vuole arrivare al vertice con le carte in regola, prima fra tutte la riforma del lavoro. A ognuno di loro Monti parla personalmente, Berlusconi compreso, che è l'osso più duro. Il sostegno della sua strana maggioranza c'è. Bersani, dal canto suo, assicura pieno appoggio a Monti, anche se il vertice europeo dovesse andare male. Il PDL ancora una volta si smarca, non garantendo neanche la mozione unitaria alla Camera su cui puntava Monti prima di partire per Bruxelles. Ieri il Premier ha chiesto un sostegno forte del Parlamento per la sua difficile missione, ma gli ultimi tentativi di arrivare ad un testo condiviso dalle tre forze principali sono falliti. Il PDL voterà le emozioni di PD e Terzo Polo, ma insiste per presentarne una sua. Alfano e Berlusconi, la loro partita dunque, la giocano da battitori liberi. Se Alfano rassicura Monti, Berlusconi gli esprime invece le sue inquietudini, anche se ammette che far cadere il governo sarebbe una catastrofe. Ma il Cavaliere non rinuncia ancora la pazza idea dell'uscita dalla moneta unica, con una rettifica. Non sarebbe male se la Germania uscisse dall'euro. L'euro così diventerebbe la moneta dei paesi poveri. Bersani non la manda a dire, chi fa questo discorso è un pazzo. D'altra parte l'ex Premier, pensando a scenari futuri, si autocandida anche come Ministro dell'Economia di un governo Alfano. Molti nel PDL sperano che si tratti di una butade, ma è la conferma che Berlusconi non ha ancora deciso se tornare in campo da protagonista. Per Veltroni, Berlusconi è tornato con l'armamentario tradizionale, populismo, demagogia, spirito anti-europeo, pulsioni anti-tedesche, totale assenza di misura. Tema un atto irresponsabile del Cavaliere, dice in un'intervista al Corriere della Sera. Casini dice di temere le elezioni anticipate per colpa del PDL, conferma l'idea di un patto tra progressisti e moderati, aprendo le porte di Palazzo Chigi per Bersani. Nel 2013, da un governo tecnico, si deve tornare ad un governo politico che riunisca le forze migliori del Paese, ha detto ospite di 8,5. È chiaro che il partito che ha più voti ha il diritto di esprimere il capo del governo. E in attesa di un governo politico, quello tecnico di Mario Monti fa il suo mestiere, accelera sulle riforme. Questa mattina la Camera ha votato la quarta fiducia alla riforma sul lavoro. Vediamo. L'importante è farla partire poi. Se qualcosa può essere aggiustata, lo faremo con l'appoggio dei partiti che sostengono il governo. Sulla sua riforma del mercato del lavoro, ormai vicina all'approvazione definitiva, commentando gli ultimi passi dell'iter parlamentare a Montecitorio, Elsa Fornero si è mostrata più pragmatica che entusiasta, ammettendolo nessuno ha mai preteso di avere la chiave in tasca per la soluzione dei molti problemi che affliggono il mercato del lavoro. Tutt'altro il tono, lo stesso, di qualche mese fa scelto da Fornero per un'intervista al Wall Street Journal, al quale ha ripetuto che in Italia l'atteggiamento delle persone deve cambiare. Il posto di lavoro non è un diritto, deve essere guadagnato anche attraverso sacrifici. Con la terza fiducia, passata la Camera a metà mattinata, 447 sì, 76 contrari, 27 gli assenuti, manca adesso solo l'ultimo voto. E poi in serata il disegno di legge verrà licenziato permettendo a Mario Monti di arrivare domani a Bruxelles con la riforma in tasca. A presidiare la piazza invece i sindacati che da giorni sono davanti Montecitorio. Sempre a Roma a metà mattinata la Guardia di Finanza ha blindato l'area dove sono in corso gli stati generali del sociale e della famiglia col ministro del lavoro tra i redatori. E in Piemonte almeno 400 lavoratori metalmeccanici della FIOM stanno bloccando lo svincolo dell'autostrada Torino-Milano al casello di Chivasso. Ma per il Governo adesso è il turno del decreto sulla spesa pubblica. Le misure della spending review prevedono un taglio del numero delle province, l'accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti, la mobilità per i dipendenti pubblici e risparmi sul fronte della sanità con l'obbligo per le ASL di renegoziare i contratti di fornitura troppo onerosi. Obiettivo raccogliere quest'anno almeno 7 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'IVA ad ottobre. Lunedì mattina è previsto il confronto con gli enti locali e con i sindacati già pronti tutti allo sciopero generale. E se gli italiani e le famiglie devono fare i conti con la crisi e con l'Italia far male ci sono anche i costi dell'energia, delle bollette, che sono i più alti, tra i più alti in Europa, il libero mercato che avrebbe dovuto garantire concorrenza non ha funzionato ancora. Questo lo denuncia il presidente dell'autority di controllo. Vediamo. I prezzi della luce del gas pesano sui bilanci delle famiglie italiane più che nel resto d'Europa. In particolare, chi consuma molto gas paga una bolletta più cara anche del 29% rispetto alla media europea. La denuncia l'ha fatta oggi nella relazione annuale il presidente dell'autorità per l'energia elettrica, è il gas Guido Bortoni che ha annunciato un'indagine su tutti e due i settori energetici. L'obiettivo è quello di individuare le barriere che rallentano nei fatti la maturazione del mercato. L'altra anomalia segnalata dall'autorità riguarda le tariffe energetiche. In pratica, dice Bortoni, le aziende che vendono l'elettricità sul mercato libero applicano prezzi spesso più alti di quelli del mercato tutelato, cioè del prezzo fatto dall'autority alle famiglie o alle piccole imprese fedeli ad un fornitore o pentiti dai contratti del cosiddetto mercato libero. L'autorità non nega la criticità degli approvvigionamenti del nostro paese, troppo dipendente dall'estero, Russia in testa, è messo in crisi ogni volta che è colpito da ondate di maltempo e freddo, come appunto è successo l'inverno passato. Da qui l'invito al governo di puntare di più sulle fonti rinnovabili, proprio come è successo nel settore del fotovoltaico, che grazie agli incentivi ha raggiunto ottimi risultati. Nel 2011 c'è stato un vero boom con una crescita del 463%. Ma gli allarmi non finiscono qui e uno riguarda anche l'acqua. Ad un anno da referendum che ha bocciato la privatizzazione per il presidente dell'autorità, il settore idrico presenta forti problemi relativi sia alla qualità delle forniture che alla tutela dell'ambiente e del territorio. Ecco l'Italia delle inchieste perché oggi a Milano prende il processo con rito abbreviato a carico di Pierangelo D'Acco accusato, come sappiamo, di bancarotta fraudolente e associazione a delinquere nell'ambito del crack del San Raffaele. È la prima richiesta di condanna per Pierangelo D'Acco il lobbista vicino a Comunione Liberazione amico personale di Roberto Formigoni uomo chiave nell'inchiesta a Maugeri nella quale si indaga anche sul governatore della Lombardia. Il pubblico ministero Luigi Orsi ha chiesto che D'Acco venga condannato il rito abbreviato a 5 anni e 6 mesi per i reati di associazione a delinquere e bancarotta nel processo sul crack del San Raffaele. La distrazione di fondi dal centro sanitario d'eccellenza contestata al faccendiere e all'imprenditore Andrea Bezziccheri per il quale è stata chiesta una condanna a 3 anni è stata valutata intorno ai 47 milioni di euro. L'ex direttore amministrativo del San Raffaele Mario Valsecchi ha patteggiato per gli stessi reati una pena di 2 anni e 10 mesi. La richiesta di una condanna a oltre 5 anni di reclusione per D'Acco è partita da un conto di 8 anni poi in virtù del rito abbreviato la riduzione ad un terzo. Un'inchiesta drammatica quella sul dissesto finanziario del San Raffaele con il suicidio dell'ex vicepresidente della fondazione Monte Tabor Mario Calvero braccio destro operativo di Don Luigi Verze anche lui deceduto durante le indagini. La procura ha disegnato lo scenario di imprenditori del settore sanitario che avrebbero sovraffatturato i costi delle prestazioni svolte per il San Raffaele. L'amministrazione dell'ospedale avrebbe girato quei fondi extra in nero ad Accò che li avrebbe portati all'estero e gestiti attraverso società fantasma. Adesso torniamo a parlare della presunta trattativa tra Stato e mafia che avrebbe portato la revoca del carcere duro per centinaia di mafiosi all'inizio degli anni 90 perché c'è una reazione di Mariana Scalfaro oggi sul Corriere della Sera Mariana Scalfaro la figlia del Presidente della Repubblica di allora. Io non ci sto avrebbe forse ripetuto se fosse ancora vivo Oscar Luigi Scalfaro in sua vece e in sua difesa interviene la figlia Mariana che in una lettera aperta pubblicata oggi dal Corriere della Sera arriva senza molti preamboli al punto riprovano a coinvolgere mio padre nelle polemiche sulla trattativa Stato-mafia perché non può più rispondere. Mariana Scalfaro ricorda una risposta data dal padre in un'intervista del luglio 2009 nella quale l'ex presidente affermava che nessuno in nessuna maniera diretta o indiretta mi ha mai parlato di una cosa del genere quando ero Presidente della Repubblica ebbene ricordare che al Quirinale Scalfaro arrivò subito dopo l'attentato di Capaci del maggio 92 in cui morirono Giovanni Falcone sua moglie e gli agenti della scorta. Nel mese di luglio di quello stesso anno morirà a Palermo anche il giudice Borsellino. È datata invece febbraio 93 la minacciosa e oscura lettera di un gruppo di familiari detenuti al 41 bis indirizzata al capo dello Stato ritrovata dagli investigatori negli archivi del Ministero della Giustizia ma scomparsa da quelli del Quirinale. Nel giugno di quell'anno il capo del DAP Capriotti invia al Ministro della Giustizia Conso un appunto contenente il suggerimento di non prorogare il carcere duro per centinaia di mafiosi il che poi effettivamente avvenne al termine del 93 per oltre 300 di loro. In quegli anni mi parve di percepire sono ancora parole di Scalfaro se non una strategia unitaria riconducibile ad apparati dello Stato un intreccio di interessi che si sovrapponevano mettendo a rischio la saldezza democratica del paese parole pronunciate avendo più che una sensazione dichiarò Scalfaro che cosa nostra facesse politica con le bombe da Falcone a Borsellino fino alla strage in via dei giorgofili a Firenze nel maggio del 93 ritengo che le affermazioni di mio padre siano chiarificatrici conclude Marianna Scalfaro nel rispetto della verità e della figura di mio padre. La polizia ha arrestato tre albanesi ritenuti responsabili di una drammatica rapina avvenuta all'inizio di aprile in una villetta a Perugia. Esperti nelle rapine organizzati anche crudeli dicono gli investigatori è finita la lunga caccia ai responsabili del duplice omicidio di Sergio Scoscia 52 anni e di sua madre Maria Raffaelli 74 trovati senza vita due mesi fa nella loro villetta di Cenerente alle porte di Perugia tre albanesi tutti tra i 24 e i 28 anni sono stati arrestati due erano rientrati nel loro paese d'origine in tutta fretta il giorno dopo l'omicidio ora sono in attesa di estradizione un terzo è stato trovato e arrestato a Roma la notte tra il 5 e 6 aprile scorso Scoscia e sua madre vennero immobilizzati la donna morì in seguito ad un malore un arresto cardiaco l'uomo fu costretto a subire violenze fisiche tanto cruente da provocarne la morte un'indagine difficile per gli investigatori nessun testimone oculare solo una banda così specializzata da eludere molte intercettazioni utilizzando anche utenze cinesi era una rapina che è stata probabilmente pianificata ma non nei minimi dettagli perché non sono riusciti a portare via praticamente niente proprio perché probabilmente avevano le informazioni generiche ma non sono stati in grado di far parlare le vittime i tre volevano da Scoscia la chiave della cassaforte dentro sapevano di trovare un grosso quantitativo di oro che l'uomo ancora possedeva in qualità di ex orafo la banda dovrà rispondere di duplice omicidio e associazione a delinquere finalizzata a compiere furti e rapine eccoci c'è una notizia dell'ultima ora appena arrivata nel processo sui diritti televisivi sono stati assolti Silvio Berlusconi suo figlio e altri dieci manager adesso la cronaca perché questa mattina è rientrata in Italia all'aeroporto di Ciampino a Roma è rientrato il corpo di Emanuele Brai il carabiniere è rimasto ucciso nell'attentato di due giorni fa in un campo di addestramento per la polizia vicino a De Rat in Afghanistan schierati sotto l'aereo c'erano i presidenti del senato e della camera Schifani e oltre a molte altre autorità militari la camera ardente è stata allestita al celio dove questo pomeriggio renderà omaggio al feretro il capo dello Stato Giorgio Napolitano la Siria il dramma di quanto sta accadendo in Siria è grande la preoccupazione nella comunità internazionale per la reazione violenta della Turchia all'abbattimento da parte di Damasco di un jet militare in Siria in questo momento ormai c'è una vera e propria guerra civile c'è il massacro del regime di Bashar al-Assad ma ci sono anche le rappresaglie questa mattina c'è stato un attentato ad una televisione vicina al regime ci sono stati molti morti quello che è successo stamattina è un vero massacro e non si tratta solo di un massacro di lavoratori è un massacro contro la stampa contro la stampa libera è chiaro da tempo che in Siria la guerra si combatte a colpi di informazione non solo di bombe e quello che dice il ministro siriano al-Zeibi anche se di parte rende bene il senso di quanto sta accadendo nel paese qui siamo a Drush a una trentina di chilometri a ovest di Damasco e questo è quel che resta della sede della tv di stato a Elikbaria non una televisione qualsiasi peraltro ma una rete satellitare che dunque comunicava all'estero fuori dai confini quanto accadeva all'interno dove la stampa internazionale non può entrare coloro che hanno compiuto questo crimine hanno attuato la decisione del consiglio della lega araba di mettere a tacere la voce della Siria ha aggiunto infatti il ministro per farlo sono entrati in gruppo armati intorno alle 4 di mattina ora locale hanno ucciso 7 persone 3 giornalisti e 4 guardi e ferito altre 9 poi hanno piazzato cariche esplosive per distruggere tutta la redazione ma la tv non sono riusciti a fermarla ha proseguito e assicurano i responsabili proseguirà anche i prossimi giorni le sue trasmissioni ma l'attacco la dice lunga sulla situazione ed è arrivato poche ore dopo che il presidente Assad aveva detto che il paese è in stato di guerra su tutti i fronti ma soprattutto è arrivato il giorno dopo una battaglia durissima tra esercito e ribelli alle porte di Damasco la prima così vicina alla capitale siamo allo sport vigilia dell'attesissima semifinale Italia-Germania buone notizie per Cesare Prandelli sicuro il recupero di Chiellini molto probabile quello di De Rossi e la novità potrebbe essere di avanti al posto di Cassano è iniziata la lunga vigilia con destinazione Varsavia di quello che gli azzurri si augurano sia il penultimo atto per conquistare la finale dell'europeo ci aspettano i tedeschi lanciatissimi che vogliono riscattare il 2006 la Germania è più fresca ha avuto la possibilità di riposare di più i nostri si sono dedicati soprattutto al recupero pochi allenamenti ed esercitazioni tattiche ma al video è stata studiata nei minimi dettagli la formazione di Love il recupero degli infortunati Abate Chiellini e De Rossi c'è ottimismo probabilmente saranno tutti disponibili e quindi queste sono buone notizie per il CT per quanto riguarda la formazione prende corpo l'ipotesi di Amanti potrebbe esserci lui che ha segnato il rigore decisivo dal primo minuto al posto di Antonio Cassano piuttosto affaticato dunque un'Italia super concentrata che vuole guardare lontano questa sarà una partita speciale un derby per Riccardo Montolivo che ha sangue e tedesco è una partita speciale senza dubbio perché non posso nascondere le mie origini e una piccola parte di Germania è dentro di me perché ho la madre tedesca ho uno zio tedesco ho passato fino ai 15 anni tutte le stati in Germania dai miei nonni quindi sono legato allo Schleswig-Holstein se dobbiamo fare delle percentuali al 90% mi sento italiano amo questo paese amo la maglia azzurra quindi sarò combattuto fino a un certo punto è la grande occasione di Cristiano Ronaldo per raggiungere il pallone d'oro per cancellare una volta per tutte l'incubo Messi un inizio di europeo difficile poi la svolta contro l'Olanda la grande conferma con la Repubblica Ceca ora l'ostacolo Spagna i nemici del Barça ma no niente di personale solo un partidazzo ha detto Iniesta minimizzando l'ultima volta finì con una netta vittoria per Iberici era il mondiale sudafricano ottavi di finale ma da allora sembra passata una vita la squadra del Bosch continua a macinare vittorie ma qualcosa scricchiola nel gioco l'intensità è calata la velocità anche è vero subisce pochissimo ma la fase offensiva comincia a diventare un problema contro la Francia ha creato una sola occasione da rete sfruttata da Xavi Alonso poi rigore alla fine nient'altro in più Ronaldo non è mai stato così forte Vigilia Tesa portoghesi contro tutti contro Platinic ha detto di preferire la finale Germania-Spagna ma anche contro la designazione dell'arbitro turco Kakir la stampa lusitana ha gridato al complotto sostenendo che il presidente del collegio arbitrale UEFA Angel Vigliar dirige anche la federazione spagnola e soprattutto il suo vice Senes Erzik turco come l'arbitro Kakir sarebbe amico del Barcellona e dell'Unicef sponsor Blaugrana il Portogallo non cambierà formazione del Bosch invece sì al posto di Silva ci sarà Pedro al quale toccherà portare il primo pressing su Ronaldo per una volta è la Spagna a preoccuparsi di qualcuno e non viceversa una breve pausa pubblicitaria Bentornati in studio prima di salutarci torniamo sulla sentenza di assoluzione nel processo sui diritti televisivi a Silvio Berlusconi infatti non ci fu alcune irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi di RT controllata al 100% da Mediaset questo l'ha deciso il gruppo Pierluigi Ballestrieri che è assolto perché il fatto non sussiste Silvio Berlusconi anche suo figlio Pier Silvio e altri 10 manager tra cui il produttore americano Franca Grama per i fatti invece precedenti del 2003 il giudice ha disposto a non doversi a procedere per prescrizione dei reati e con questo chiudiamo il telegiornale e vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti